Allora, oggi nuovo video con l'iPad stavolta, quindi sarà un po' più mosso, perché non ho il mio 3P di solito, per cui lo farò a mano. Lì si vede anche il mio vecchio iPad, vabbè. Allora, oggi vi faccio vedere un po' dei miei lavoretti fatti a uncinetto, precisamente questi sono amigurumi. Cioè sono, per chi non conoscesse l'ucinetto, sono proprio degli oggettini, no? Vedete, questi in particolare sono proprio dei peluche, delle bamboline. Qui ce ne sono di lato anche altri, che poi dopo vi mostrerò. Allora, in primis, qui abbiamo il primissimo che ho fatto, questo è stato fatto un bel po' di tempo fa, credo abbia già 2-3 anni, ed è stato proprio il primo amigurumi che ho fatto, ed è questo cagnolino dolcissimo nella sua tazza, con queste orecchie lunghe, carinissimo. Questo lo fiscio in lana, me lo ricordo bene. Poi ho fatto questa qui, non me li faccio vedere in ordine come li ho fatti, in ordine sparso, però insomma più o meno mi ricordo quale ho fatto più recentemente e quale ho fatto più, insomma, tempo fa. Questo anche, l'ho fatto parecchio tempo fa, è la paperella, la paperella, insomma, pasquale, ma io poi in realtà la tengo sempre in esposizione sul mio scaffale degli amigurumi. Questa in origine aveva il fazzoletto in testa, però poi feci questo cappello, e quindi il fazzoletto gliel'ho messo qui al collo, eccola qui, carinissima. Questa è fatta in cotone, mi piace tanto perché avevo questo cotone, avevo questo cotone melange, che poi ho usato anche per quelle due bamboline, se vedete, per la bimba ho usato lo stesso della papera, e per il bambino ho usato il melange verde, ed eccole qui, ve le faccio vedere. Queste sono le primissime bamboline che ho fatto, queste non tanto tempo fa in realtà, meno di un anno fa, credo, siccome non volevo cimentarmi con le bambole, quelle proprio intere, che insomma mi sembravano un po' particolari, un po' difficoltose, avevo trovato dei tutorial di queste semplicissime, vedete che hanno le braccia e le gambe in questo modo, e mi sono cimentata a fare questa, questa mi piace tanto, poi i capelli che trovo anche che mi somigli, veramente adorabile, adorabile, poi qui ho cucito io gli occhi invece alla papera, qui vedete ho messo due pietrine, queste in realtà sono proprio due pietre dionice, e poi ho fatto anche il maschietto qui, eccolo qui, con la sua tutina incrociata dietro, è dolcissimo anche questo, ed è il compagno, diciamo, di questa qui. Poi, recentemente ho fatto questo portachiavi, vabbè questo è semplicissimo, con il campanellino, e questo insomma da appendere così alle chiavi, molto molto semplice, piccolino il gattino con la codina arricciata, questo ha il ferro dentro la coda, che permette di arricciarla, e insomma, i gatti solitamente hanno questa coda arricciata, quindi mi piaceva moltissimo questo taglio. E poi l'ultimo proprio che ho fatto è stato questo, ma ce ne sono altri di là, vi ho detto, questo è stato proprio l'ultimo che ho fatto, eccolo qui, è un gatto, però l'ho fatto in rosa, e questo l'ho fatto sempre con la lana, perché i miei amigurumi sono quasi tutti in cotone, tranne quello e questo qua. Qua ho usato una lana baby morbidissima, che mi aveva dato mia mamma, perché è stata lei praticamente a trasmettermi questo amore per l'uncinetto, lei è bravissima, però diciamo che ci siamo specializzate in due campi diversi, perché io poi mi sono appassionata agli amigurumi, e quindi mi sono data a quelli soprattutto, più che al vestiario, alle borse, diciamo, e tutto il resto. E qui, vedete, anche qui ho cercato di farla un po' più lunga, in modo da farla un po' arricciata, per non farlo sembrare un cane, diciamo. Ed ecco qua il gattino, anche qui tutto cucito a mano. Questo è tutto un pezzo, questo è stato il primo amigurumi che ho fatto tutto un pezzo, non sono pezzi montati tra loro, ecco qui. E poi veniamo a quelli che ho fatto quest'estate. Quest'estate avevo un bel po' di tempo libero, ne ho fatti diversi, sempre in cotone, più grandi. Allora, i più piccolini sono questo, il pulcino, diciamo, vedete, col ciuffetto in testa, adorabile, il merlettino qui al collo, la codina, troppo carino. Anche questo l'ho visto da un tutorial di una ragazza indiana, bravissima, che fa tutti questi personaggini un po' teneri così, no? Anche da cartone animato, e ce ne sono due, per esempio, a forma di orsetto da matrimonio, che voglio assolutamente fare, poi ve li mostrerò. E gli occhietti sono fatti in panno lenci. Ecco, questo è il pulcino. Poi ho fatto il coniglio, con le orecchie lunghe, io ho una passione per le orecchie lunghe, sarà che ho avuto il cocker, insomma, il cocker, quindi mi piace proprio. Mi piacciono queste orecchie lunghe pendenti, il coniglietto rosa, eccolo qua. Anche questo con gli occhietti in panno lenci. Poi avevo fatto questo paperino, vabbè, questo è semplicissimo, diciamo, non è niente di particolare. Questo l'avevo regalato al mio amore, da mettere in macchina, poi lo abbiamo messo qui in casa, con tutti gli altri pupazzetti. Però, ecco, questo è uno dei personaggi. E poi, alla fine vi faccio vedere i due pezzi forti, diciamo così. Allora, perché guardate quanto è grosso, è stato proprio l'amigurumi più grande che abbia mai fatto. Eccolo qui. Vedete, l'elefante, tutto in cotone. Anche questo, cotone sottile, tra l'altro. Se avessi usato la lana un cotone più spesso, sicuramente sarebbe venuto un vestione. Con la proboscide, alzata. Gli occhi, in questo caso, attaccato due svaroschi. Infatti, se vedete, brillano anche. Comunque, un amore, questo elefante. Guardate, si muove anche il capoccio. ragione, insomma, è proprio, è proprio adorabile, adorabile. Ecco qua. E poi, l'ultima, anche questa fatta quest'estate, è la bambola. Questa l'ho fatta tutta intera. Eccola qui, vedete? Questa è stata fatta proprio tutta intera, non come le altre due che vi ho fatto dire prima. Questa è stata anche un bel lavoro, però devo dire che le ho fatte abbastanza velocemente. Anche questa ci ho messo due, tre giorni, non di più. ecco, vedete le mutandine sotto, qui ci sono i cartoni per farla tenere dritta, ma comunque non sta in piedi, la devo appoggiare. I capelli anche, trovo anche questa che poco mi somigli. E anche questa è adorabile, adorabile veramente, mi piace tanto. Infatti, di questa ne vorrei fare sicuramente un'altra, magari con una capigliatura differente, ecco. E nulla, ecco qui, questi sono tutti i miei amigurumi, diciamo così, ma gli altri sono dietro il grande elefante. Sicuramente ne farò altri perché mi piacciono troppo, proprio una delle mie passioni. Non so, sicuramente i prossimi che vi ho detto farò saranno i due orsetti da matrimonio, lo sposo e la sposa. Mi piacciono, mi piacciono, ma ce ne sono tanti, tanti che ho visto, anche il cagnolino col vestitino, ce ne sono tanti. E di questa, come vi ho detto, sicuramente ne farò un altro o maschio, tanto la struttura più o meno è sempre la stessa. Basta veramente un po' di fantasia, poi su per giù la struttura è quella. Certo, insomma, delle basi di uncinetto bisogna averle e bisogna avere anche tanta pazienza e tanta passione. Nulla, io mi volevo mostrare i miei lavoretti amigurumi, vi mando un saluto e noi se vi va ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!